Certo che davvero c'è da impazzire a sentire Rinaldo Melucci e la sua Corte dei Miracoli, i suoi assessori, la sua maggioranza, parlare di rinascita di Taranto, avere il coraggio di dire stiamo seminando la rinascita. Mi trovo qui nelle vicinanze di Piazza Castello, sono le ore 20 circa, guardate i cassonetti e guardate i rifiuti accanto ai cassonetti. Chiariamolo, non è certamente colpa dei cittadini, ma i cassonetti sono assolutamente insufficienti, sono stracolmi, motivo per il quale il cittadino non ha altra scelta se non in maniera molto garbata lasciare i rifiuti accanto. Guardate, è uno schifo. Questa città è ridotta a un cesso a cielo aperto e che nessuno si scandalizzi. Questa è una situazione di merda, perché così va definita. La città è ridotta a una merda, a una latrina. Di questo si tratta. Qui non si può respirare per la puzza che deriva, che promana dai cassonetti. Guardate, qui il marciapiede non viene pulito da mesi, ha cambiato colore. Le mattonelle, i mattoni da bianchi sono diventati neri, neri, neri. Non li pulisce nessuno. Caro Mancarelli, presidente dell'AMIU, caro sindaco, questi andrebbero stricati. Sapete cosa significa stricare? Guardate, ma qui veramente dovrebbe intervenire l'ufficio igiene. Qui mancano le condizioni minime, minime per l'igiene pubblica, ma che dobbiamo veramente rischiare le infezioni. Il meglio deve ancora venire, osa dire Rinaldo Melucci, e poi lo stesso Melucci, l'assessore Mattia Giorno, il grande uomo dello sviluppo economico, del turismo, il vice sindaco Fabrizio Manzulli, il quale parla di sentiment, di un'attrattiva turistica di Taranto verso il resto del mondo. Ma quale attrattiva turistica? Ma in questo modo Manzulli, Belucci, ripeto gli stessi nomi, potremmo allargare a tutta la maggioranza, potremmo allargare a Luca Contrario, che parla di una svolta, di una Taranto diversa. Ma voi sapete che cosa significa fare turismo? Ma voi avete mai girato, non dico il mondo, non dico l'Europa, l'Italia? Voi dovreste stare per qualche mese, per non dire qualche anno, in altre città a vedere veramente come si amministra, a vedere veramente come si fa turismo. La vostra dimensione amministrativa è questa, è la dimensione del degrado, della città che diventa qualcosa di osceno, di scandaloso, di vergognoso per la dignità umana. Questa è l'immagine di Taranto, che piaccia o no, e lo ripeto, io amo Taranto e nessuno può dire che questi servizi danneggiano l'immagine di Taranto, perché io devo evidenziare i mali, non sono uno di quelli che prende la polvere e la getta sotto il tappeto. Questa è Taranto, ridotta a uno schifo, la vostra Taranto, non la Taranto che meritano i cittadini, la Taranto targata Rinaldo Melucci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS